Sorrento-Juve Stabia è finito senza vincitori e vinti, il derby del Menti è finito in parità e c'era un derby anche in panchina, possiamo vedere le immagini tra Provenza e Capuano, entrambi salernitani un gol per la squadra, uno per tempo, pareggio sostanzialmente giusto, Sorrento in vantaggio, avete appena visto il colpo di testa di ottobre. A metà ripresa il pareggio delle Vespe di Castellammare sarà caputo a trasformare il calcio di rigore concesso dal signor Pegorelli di Arezzo per il fallo di mani commesso da Nicodemo. Ecco la trasformazione dagli 11 metri, uno a uno, si prova a ricominciare da capo ma né le iniziative del Sorrento né quelle della Juve Stabia sortiscono l'effetto sperato, le Vespe comunque vanno più vicino al gol partita col neoentrato Longobardi che non inquadra la porta di Brunner.